Salve e chi non trovo le parole volevo augurare a tutti gli amici di Los Garassau un buon Natale e anche il giorno dopo il giorno prima la vigilia soprattutto a uno dei creatori di Los Garassau per me è il maggiore rappresentante di Los Garassau proprio perché è l'unico che ho conosciuto di Los Garassau sì sì sei proprio tu Matteo Moni ecco ora l'ho detto sono contento perché ci sono riuscito a rivederci da vicino del 2020 ciao e Ganassau Grazie a tutti